Può spiegarci la dinamica dell'attacco contro i nostri soldati? Sì, alle 7.15 ore italiana, al passaggio di un'autocolonna, è esploso un ordigno improvvisato. La morte di quattro militari e il ferimento di un quinto militare. Ecco, il soldato italiano ferito è in condizioni gravi? Al momento è all'ospedale della Ram, è cosciente, ma ha riportato traumi e esplosione. Al momento dell'attacco i nostri soldati erano impegnati in una missione di perlustrazione? No, stavano scortando un convoglio di 70 mezzi e si stava dirigendo a Gulistan per costituire in poco una base operativa avanzata. Ecco, Generale, prima parlava di un ordigno improvvisato, ma anche molto potente, visto che ha distrutto il mezzo blindato. Guardi, è troppo presto per poterlo dire. È chiaro che il lince fino adesso ha sempre sopravvissuto ai vari attacchi che sono stati condotti. Questa volta purtroppo così non è stato. Sarà poi l'inchiesta a stabilire di quanto è l'esplosivo e di che tipo di esplosivo si è trattato. Di transizione la Nato parla da tanto tempo. Diciamo che il discorso di Frattini può avere un senso se lo limitiamo alla provincia di Herat, che è quindi la provincia nella quale gli italiani hanno la responsabilità per la ricostruzione. Ma se noi guardiamo ad esempio la provincia di Farah, quella certo non potrà essere una provincia gestita dagli afghani, perché le truppe afghane presenti in quell'area sono molto poco e nel settore dove operano i nostri alpini sono appena 35 poliziotti, quindi è certo non in grado di gestire la sicurezza. E perché le capacità tecniche, militari, operative della polizia e dell'esercito afghano sono ben lontane dall'essere in grado di garantire un'autonomia a queste forme. In questa fase quanto sono considerati degli obiettivi militari della Nato e soprattutto gli italiani? Sono un obiettivo da sempre degli insordi. Gli italiani lo sono ancora di più perché da un mese le truppe italiane hanno preso il controllo, o comunque si sono schierate in quest'area che prima era presidata da truppe georgiane con capacità militari inferiori a quelle italiane. Ovviamente è un'area da sempre controllata dai talebani, dai narcos che lì vi gestiscono piantagioni di oppio e quindi una presidio militare che certo disturba. E' atterrato all'aeroporto militare di Ciampino il C-130 dell'Aeronautica Militare con a bordo le salme dei quattro alpini italiani uccisi in Afghanistan. Ad accogliere i feretri accanto alle famiglie delle vittime, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Premier Berlusconi, il Presidente della Camera Affini, il Ministro La Russa e il Sottosegretario Letta. Le bare allineate sulla pista sono state prima benedette dall'ordinario militare Monsignor Pelvi, poi il saluto commosso del Capo dello Stato che ha appoggiato le mani sulle bare avvolte dal tricolore. Con loro, diciamo, essendo stato il loro medico per tre anni e mezzo a Belluno, poi ricordo le attività innumerevoli addestrative in Italia e le missioni all'estero. Di tutti comunque ricordo la dedizione e la motivazione con la quale quotidianamente svolgevano il loro lavoro. Dopo gli accertamenti di rito, le salme verranno trasferite al Celio dove si potrà dare l'ultimo saluto ai militari nella Camera Ardente. I funerali verranno celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.